22 concorrenti, fra cui una donna al volante di una Fiat, in gara su 100 giri del bellissimo circuito di Donington Park, tra il trofeo internazionale turistico vinto dalla coppia Gianfranco Comotti e René Lebegu, su macchina francese, dopo un serrato duello con i concorrenti tedeschi alla media di 68 miglia orarie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.